Si è svolta a Banari la sagra della cipolla dorata che quest'anno ha reso omaggio a Gianfranco Zola. Vediamo il servizio di Jenny Carolina Amato Garcia. Una piazza gremita ed entusiasta per ricevere lui, Gianfranco Zola, fuoriclasse del calcio italiano, simbolo dello sport in Sardegna, arrivato sabato scorso a Banari dove è stato omaggiato con la cipolla dorata. Premio consegnato nell'ambito della sagra che porta questo nome, il quale rende onore alle personalità che lasciano in alto la terra dei quattro mori nel mondo. Attestati di questo genere mi fanno molto piacere anche perché io ho smesso di giocare a calcio più di vent'anni fa e quindi che la gente si ricordi di me con affetto è una cosa che veramente mi riempie di gioia e di orgoglio. Spero di poter dare a questi ragazzi quello che ho ricevuto allora ai miei tempi. I vari Gigi Riva, i vari Platini, Maradona sono stati fondamentali perché mi hanno dato l'ispirazione, la voglia di lavorare duro per affermarmi. Il prestigioso riconoscimento è un'opera creata dall'artista Giuseppe Carta e rappresenta una cipolla realizzata con la tecnica di bronzo a cera persa. Questo premio che in realtà è nato bisogna dirlo nel 2001 ma ancora prima nel 1996 noi abbiamo dato al presidente Francesco Cossiga il premio della cipolla che fu una fusione in vetro. Questo incantevole borgo del nord della Sardegna si è trasformato in una cucina a cielo aperto per offrire ai numerosi visitatori squisiti piatti preparati a base di cipolla dorata, prodotto gastronomico emblematico di Banari, dalle proprietà organolettiche uniche. Il nostro intento fondamentale è quello di promuovere il territorio di Banari facendolo conoscere per le sue eccezionalità. Grazie a tutti.